Il treno suburbano S11 25222 di Trenord, proveniente da notte, diretto a Combo, San Giovanni, interiore 7.16 e in arrivo al minaccio. Il treno suburbano S11 252 di Trenord, proveniente da notte, diretto a Combo, San Giovanni, interiore 7.16 e in arrivo al minaccio. Il treno suburbano S11 252 di Trenord, proveniente da notte, diretto a Combo, San Giovanni, interiore 7.16 e in arrivo al minaccio.